Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, al nord, schiarite alternate a nubi sparse. Al centro, soleggiato con poche nubi. Al sud, nubi irregolari con locali acquazzoni. In serata, al nord, schiarite prevalenti ma con possibili temporali passeggeri. Al centro, bel tempo con cieli sereni. Al sud, cielo nuvoloso con solo qualche raggio di sole. Previsioni per domani. Al mattino, al nord, bel tempo con cieli sereni. Al centro, soleggiato con poche nubi. Al sud, cielo nuvoloso con solo qualche raggio di sole. Nel pomeriggio, al nord, bel tempo con cieli sereni. Al centro, soleggiato ma con nubi sparse. Al sud, soleggiato ma con nubi sparse.